Nei giorni in cui l'inverno assesta gli ultimi colpi di freddo, a suon di nevicate gelate, arriva la tipica classifica estiva targata a bandiera verde dei pediatri 2020. 144 comuni tra Italia, Spagna e Romania freggiarsi del vessillo, riconosciuto alle località marine con caratteristiche adatte ai bambini, selezionate attraverso un'indagine condotta fra un ampio campione di pediatri. Ad annunciare l'elenco dei premiati per il 2020 sono i pediatri organizzatori dell'iniziativa. La Calabria con 18 vessilli si conferma al primo posto, insidiata da Sicilia e Sardegna con 16, al terzo posto la Puglia con 13, al quarto le Marche con 12. La Campania fa un'ottima figura, conquistando 10 bandiere verdi, trascinata dalle bellezze del Cilento con ben 8 riconoscimenti. Si tratta di Agropoli con il Lungomare San Marco e Trentova, Centola Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi Santa Maria di Castellabate e Sapri. Le regole per assicurarsi una bandiera verde che attesta spiaggia a misura di bambino restano sempre le stesse. Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnine e scialuppe di salvataggio, giochi e spazi per cambiare o allattare nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i più grandi.